Dal 20 ottobre! Com'è essere in tournée? È davvero il massimo! È un... è un sogno diventato realtà. Per me è eccezionale, poi tra noi c'è... c'è un'ottima intesa. Sì, è evidente! Quando tornerò allo studio al pubblico mancherà molto. No, non vediamo l'ora di tornare. Già, e stiamo tornando! Io voglio tornare per vedere cosa ci aspetta. Ci vediamo presto! La nuova stagione di Violetta. Dal 20 ottobre sulla Disney Channel. Grazie a tutti!